Lezione 121. Sai se è single? Ehi Anna, sai se Sara è single? Sara? Di quale Sara stai parlando? Sara dalla contabilità. L'ho incontrata alla festa aziendale la scorsa settimana. Oh, non ne sono sicura. Penso che potrebbe avere un fidanzato, ma non sono positivo. Ok, grazie per avermelo fatto sapere. Stavo pensando di chiederle di uscire per un appuntamento. Beh, non può far male provare. Sii rispettoso ed educato se non è interessata. Sì, non voglio rendere le cose imbarazzanti al lavoro. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare in un museo o in una galleria d'arte. E tu? Sabato andrò a una riunione di famiglia. E domenica, ho intenzione di rilassarmi e leggere un libro. Sembra un bel fine settimana. Hai un libro o un autore preferito? Mi piacciono molti generi diversi, ma ultimamente ho letto molti libri di saggistica. E tu? Sono una grande fan dei romanzi gialli. Mi piace provare a risolvere gli enigmi prima della fine del libro. È fantastico. Hai qualche raccomandazione? Sì, c'è un nuovo libro di un autore popolare che è appena uscito. Posso prestarvelo se siete interessati. Sarebbe fantastico, grazie. Sono sempre alla ricerca di nuovi libri da leggere. Grazie per aver chiacchierato con me, Anna. In qualsiasi momento, John. Buon fine settimana. Lezione 122. Sono un po' nervoso per il volo. Ehi, Anna, ho sentito che hai un viaggio di lavoro in arrivo. Sei entusiasta? Beh, sono un po' nervosa per il volo. Ho sempre avuto paura di volare. Davvero? Non avevo idea. Hai provato qualche tecnica per aiutare con la paura? Sì, di solito cerco di distrarmi con un libro o un film. E pratico anche tecniche di respirazione profonda e rilassamento. È una buona idea. Ho sentito che la meditazione può anche aiutare con l'ansia. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di fare un'escursione o un giro in bicicletta. E tu? Ho intenzione di andare a un concerto sabato sera. E la domenica, potrei andare a un mercatino delle Pulci o qualcosa del genere. Sembra un weekend divertente. Chi vedi in concerto? È una band locale che mi piace molto. Suonano un mix di musica rock e folk. Ti piace andare ai concerti? Sì, ma non ci vado da un po'. Chissà, forse mi unirò a te per il prossimo. Sarebbe fantastico. È sempre più divertente andare con qualcuno. Grazie per aver chiacchierato con me, Anna. In qualsiasi momento, John. Buona giornata. Lezione 123. Prenota il biglietto aereo. Ehi Anna, sei riuscita a prenotare il tuo biglietto aereo per la conferenza? Sì, l'ho fatto. Ho trovato un buon affare online e l'ho prenotato ieri. È fantastico. Quale compagnia aerea hai scelto? Sono andata con Delta. Avevano un buon prezzo e un programma conveniente. Questa è una buona scelta. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare una nuotata in piscina. Sembra un weekend divertente. Hai un tipo preferito di cibo barbecue? Mi piacciono gli hamburger e gli hot dog, ma mi piacciono anche le verdure grigliate e le insalate. E tu? Mi piacciono il pollo alla griglia e la pannocchia di mais. E per dessert, adoro s'mores. Oh, gli s'mores sono i migliori. Avete mai provato a realizzarli con diversi tipi di cioccolato o biscotti? No, non l'ho fatto. Sembra un'idea divertente. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buon fine settimana. Lezione 124. Come va il tuo nuovo lavoro? Ehi, Anna. Come va il tuo nuovo lavoro? Ti sei già ambientato? Finora sta andando bene. Tutti sono stati davvero cordiali e disponibili. E tu? Com'è stato il tuo lavoro? È stato impegnativo, ma mi sto godendo il lavoro. Ho imparato molto e ho conosciuto i miei colleghi. È fantastico da sentire. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare a un concerto sabato sera. E la domenica, potrei andare a fare un'escursione o un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Chi vedi in concerto? È una band locale che mi piace molto. Suonano un mix di musica rock e folk. Ti piace andare ai concerti? Sì, ma non ci vado da un po'. Chissà, forse mi unirò a te per il prossimo. Sarebbe fantastico. È sempre più divertente andare con qualcuno. Sei stato in qualche buon ristorante ultimamente? Sì, c'è un nuovo posto thailandese che ha appena aperto. Il cibo è davvero autentico e delizioso. L'hai provato? No, non l'ho fatto. Dovrò dare un'occhiata. Grazie per la raccomandazione. In qualsiasi momento, John. Fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti. Lo farò, grazie Anna. Buona giornata. Anche tu, John. Lezione 125. Penso che abbiamo mangiato troppo. Wow, c'era un sacco di cibo. Penso che abbiamo mangiato troppo. Lo so, sono così piena. Non avrei dovuto avere quella fetta di pizza in più. Lo stesso qui. Penso di aver bisogno di fare una passeggiata o qualcosa per aiutare a digerire tutto. È una buona idea. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare una nuotata in piscina. Sembra un weekend divertente. Hai un tipo preferito di cibo barbecue? Mi piacciono gli hamburger e gli hot dog, ma mi piacciono anche le verdure grigliate e le insalate. E tu? Mi piacciono il pollo alla griglia e la pannocchia di mais. E per dessert, adoro s'mores. Oh, gli s'mores sono i migliori. Avete mai provato a realizzarli con diversi tipi di cioccolato o biscotti? No, non l'ho fatto. Sembra un'idea divertente. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buon fine settimana. Lezione 126. Appuntamento dal medico. Ehi, Anna, com'è andato il tuo appuntamento dal medico? È andata bene. Grazie per avermelo chiesto. Ho appena fatto un controllo di routine. È bello sentirlo. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare a fare un giro in bicicletta sabato. E la domenica, potrei andare al mercato degli agricoltori. Sembra un bel fine settimana. Hai un tipo di cibo preferito dal mercato degli agricoltori? Mi piace ottenere frutta e verdura fresca, ma mi piace anche provare diversi tipi di pane e dolci. E tu? Adoro ricevere fiori freschi e miele. E cerco sempre di sostenere gli artigiani locali acquistando artigianato fatto a mano. È davvero fantastico. Hai qualche artista o artigiano locale preferito? Sì, c'è una donna che fa belle ceramiche. Ho alcuni pezzi da lei che uso per cucinare e servire. È fantastico. Mi piacerebbe vedere alcuni dei suoi lavori prima o poi. Grazie per aver chiacchierato con me, Anna. In qualsiasi momento, John. Buon fine settimana. Lezione 127. Hai dovuto contrarre un prestito per la tua nuova auto? Ehi, Anna. Ho sentito che hai una nuova macchina. Hai dovuto contrarre un prestito per questo? Sì, l'ho fatto. Ho fatto un buon affare sulla macchina, ma avevo bisogno di un prestito per coprire i costi. Ha senso. Hai ottenuto il prestito tramite la concessionaria o tramite una banca? Sono passata attraverso la mia banca. Mi hanno offerto un tasso di interesse inferiore rispetto alla concessionaria. È intelligente. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare ad un concerto o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di fare un'escursione sabato. E la domenica, potrei andare in spiaggia. Sembra un bel fine settimana. Hai un sentiero escursionistico preferito? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che ha delle belle viste sulla città. Hai fatto escursioni ultimamente? Non tra un po', ma mi piacerebbe. Hai qualche consiglio per i percorsi per principianti? Certo, c'è un parco a pochi chilometri di distanza che ha alcuni sentieri facili e aree e picnic. È un ottimo posto per trascorrere un pomeriggio rilassante. Sembra perfetto. Grazie per la raccomandazione, John. In qualsiasi momento, Anna. Buon fine settimana. Lezione 128. Puoi procurarmi del pane? Ehi, Anna. Puoi prendermi del pane al negozio? Certo. Che tipo di pane vuoi? Solo una pagnotta di pane integrale, per favore. Ok. Nessun problema. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare una nuotata in piscina. Sembra un weekend divertente. Hai un tipo preferito di cibo barbecue? Mi piacciono gli hamburger e gli hot dog, ma mi piacciono anche le verdure grigliate e le insalate. E tu? Mi piacciono il pollo alla griglia e la pannocchia di mais. E per dessert, adoro s'mores. Oh, gli s'mores sono i migliori. Avete mai provato a realizzarli con diversi tipi di cioccolato o biscotti? No, non l'ho fatto. Sembra un'idea divertente. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buon fine settimana. Lezione 129. Nuova gioielleria. Ehi, Anna, sei mai stata in quella nuova gioielleria in centro? Sto pensando di fare un regalo per la mia ragazza. Sì, ci sono già stata. Hanno dei pezzi davvero belli. Cosa stai cercando? Non ne sono ancora sicuro. Pensavo forse a una collana o a un braccialetto. Hai qualche raccomandazione? Beh, dipende dal suo stile e dalle sue preferenze. Ma hanno alcune belle catene d'oro delicate, e semplici braccialetti che potrebbero essere una buona scelta. Sembra una buona idea. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di fare un'escursione, o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare a un concerto sabato sera. E la domenica, potrei andare al mercato delle pulci. Sembra un weekend divertente. Hai qualche tipo di musica preferita? Mi piacciono molti generi diversi, ma ultimamente mi sono appassionato all'indie rock. Sei stato a qualche buon concerto ultimamente? Non tra un po', ma mi piacerebbe andare a uno presto. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 130. Zona non fumatori. Ehi Anna, lo sapevi che questo edificio è una zona non fumatori? Sì, l'ho fatto. Sono contento che abbiano questa politica. Fumare non fa bene alla salute. Sono d'accordo. Sei stato nel nuovo parco che ha aperto il mese scorso? No, non l'ho fatto. Com'è? È davvero bello. Hanno sentieri, un parco giochi e persino un parco per cani. Sembra un ottimo posto dove trascorrere un pomeriggio di fine settimana. Hai dei piani per questo fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare una nuotata in piscina. Sembra un weekend divertente. Hai un tipo preferito di cibo barbecue? Mi piacciono gli hamburger e gli hot dog, ma mi piacciono anche le verdure grigliate e le insalate. E tu? Mi piacciono il pollo alla griglia e la pannocchia di mais. E per dessert, adoro s'mores. Oh, gli s'mores sono i migliori. Avete mai provato a realizzarli con diversi tipi di cioccolato o biscotti? No, non l'ho fatto. Sembra un'idea divertente. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 131. Sei mai stato in Asia? No, non l'ho fatto. Mi piacerebbe visitare un giorno. Ci sei stato? Sì, sono andato in Giappone l'anno scorso. È stata un'esperienza straordinaria. È fantastico. Cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto molto il cibo e la cultura. Le persone erano anche molto cordiali e accoglienti. Sembra fantastico. Hai altri piani di viaggio in arrivo? Al momento no, ma spero di fare un viaggio in Europa l'anno prossimo. E tu? Ho intenzione di visitare la mia famiglia in Messico il mese prossimo. È passato un po' di tempo da quando li ho visti. È bello. Hai qualche posto preferito da visitare in Messico? Sì, adoro andare nelle città balneari come Puerto Vojarto e Cancun. Il cibo e il paesaggio sono incredibili. Sembra molto divertente. Grazie per aver chiacchierato con me, Anna. In qualsiasi momento, John. Buona giornata. Lezione 132. Progresso tecnologico. E Anna, hai notato quanto la tecnologia è avanzata negli ultimi anni? Sì, è piuttosto sorprendente. Abbiamo così tanti nuovi gadget e dispositivi che ci semplificano la vita. Esattamente. Hai provato qualche nuova tecnologia di recente che ti piace davvero? Ho appena ricevuto un nuovo smartwatch che tiene traccia della mia forma fisica e del sonno. È stato davvero utile per tenermi in linea con i miei obiettivi di salute. È fantastico. Ho usato un assistente virtuale per aiutarmi con il mio lavoro. Mi fa risparmiare un sacco di tempo e mi aiuta a rimanere organizzato. Sembra davvero utile. Hai altri gadget o strumenti tecnologici preferiti? Mi piace molto anche usare un pad di ricarica wireless per il mio telefono. È così comodo e non devo mai preoccuparmi di trovare un cavo di caricabatterie. È una buona idea. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 133. Cosa pensi renda un progetto imprenditoriale di successo? Ehi, Anna. Hai sentito parlare di quel nuovo progetto imprenditoriale che è stato appena lanciato? Sembra che stia andando davvero bene. Sì, ne ho sentito parlare. Cosa pensi che renda un progetto imprenditoriale di successo? Penso che entrino in gioco molti fattori, come avere una squadra forte, una visione chiara e la volontà di adattarsi ai cambiamenti. Ha senso. Sei stato coinvolto in progetti imprenditoriali di successo? Sì, ho fatto parte di un team che ha lanciato una nuova linea di prodotti che ha avuto molto successo. È stato davvero emozionante vederlo decollare. È fantastico. Quale pensi sia stata la chiave del suo successo? Penso che sia stata una combinazione di avere un prodotto unico, fare ricerche di mercato approfondite e avere una solida strategia di marketing. Sembra che voi ragazzi abbiate fatto tutto bene. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare in spiaggia. Sembra un weekend divertente. Hai una spiaggia preferita? Sì, c'è una spiaggia a poche ore di distanza che ha alcuni ottimi spot per il surf. Hai già fatto surf? No, non l'ho fatto. Ma ho sempre voluto provarlo. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 134. Nuovo dipendente nel reparto creativo. Ehi Anna, hai incontrato quel nuovo dipendente nel reparto creativo? Ho sentito che ha davvero talento. No, non l'ho ancora incontrata. Cosa pensi che renda una persona creativa? Penso che sia una combinazione di avere una prospettiva unica, la capacità di pensare fuori dagli schemi e la volontà di correre rischi. Questo è un buon punto. Pensi che la creatività sia qualcosa che può essere appreso o è innata? Penso che sia un po' entrambe le cose. Alcune persone sono naturalmente più creative, ma è anche un'abilità che può essere sviluppata con la pratica e l'apprendimento. Assenso. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un'escursione in montagna. Sembra un weekend divertente. Hai un sentiero escursionistico preferito? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che ha delle belle viste sulla città. Hai fatto escursioni ultimamente? Non tra un po', ma mi piacerebbe andarmene presto. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 135. Ti piace praticare sport indoor? Ehi, Anna. Ti piace praticare sport indoor? Sì, mi piace giocare a basket e pallavolo al chiuso. E tu? Mi piace giocare a calcio indoor e racquetball. Hai mai giocato a racquetball prima? No, non l'ho fatto. Come si gioca? È un po' come lo squash, ma il campo è più piccolo e si usa un tipo diverso di racchetta. Sembra interessante. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare in palestra per un allenamento. Sembra un buon fine settimana. Hai un tipo di allenamento preferito? Mi piace fare un mix di cardio e allenamento della forza. E tu? Preferisco fare yoga e pilates. Li hai mai provati? Sì, ho già fatto yoga prima. È davvero buono per la flessibilità e il relax. È vero. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 136. Prodotti cosmetici. Ehi Anna, usi qualche prodotto cosmetico? Sì, uso alcuni prodotti diversi come crema idratante, crema solare e mascara. Ne usi? Non proprio, ma ho pensato di provare alcuni prodotti per la cura della pelle. Hai qualche raccomandazione? Sì, mi piace molto questo marchio che utilizza ingredienti naturali ed è buono per le pelli sensibili. Posso darti alcuni esempi da provare se sei interessato. Sarebbe fantastico, grazie. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei fare un po' di shopping. Sembra un weekend divertente. Hai qualche negozio preferito in cui fare acquisti? Sì, mi piace andare in questo negozio all'aperto che ha un sacco di attrezzatura da campeggio e da trekking. Sei già stato in campeggio? No, non l'ho fatto. Ma ho sempre voluto provarlo. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 137. Nuove tendenze moda. Ehi Anna, hai notato qualche nuova tendenza della moda ultimamente? Sì, ho visto molte persone indossare blazer oversize e scarpe da ginnastica grosse. E tu? Non ho prestato molta attenzione, ma ho sentito che i colori vivaci e i motivi audaci sono di moda in questo momento. È interessante. Hai qualche marchio di moda preferito? Non proprio, ma mi piace comprare vestiti comodi e versatili. Hai dei piani per il fine settimana? Sto pensando di andare a fare shopping con alcuni amici e provare alcuni vestiti nuovi. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 138. Ti sei posto degli obiettivi quest'anno? Ehi Anna, ti sei posta degli obiettivi quest'anno? Sì, mi sono posta l'obiettivo di leggere più libri e imparare una nuova abilità come la programmazione. E tu? Ho fissato l'obiettivo di risparmiare più denaro e viaggiare in un nuovo paese. Hai viaggiato da qualche parte di recente? No, non ancora. Ma ho intenzione di fare un viaggio in Europa l'anno prossimo. Hai qualche destinazione di viaggio preferita? Mi è piaciuto molto il Giappone quando l'ho visitato l'anno scorso. Il cibo e la cultura erano incredibili. Ci sei già stato? No, non l'ho fatto. Ma ho sentito molte cose positive a riguardo. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare in palestra per un allenamento. Sembra un buon fine settimana. Hai un tipo di allenamento preferito? Mi piace fare un mix di cardio e allenamento della forza. E tu? Preferisco fare yoga e pilates. Li hai mai provati? Sì, ho già fatto yoga prima. È davvero buono per la flessibilità e il relax. È vero. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 139. Sei stato a qualche matrimonio di recente? Ehi Anna, sei stata a qualche matrimonio di recente? Sì, sono andata al matrimonio di mio cugino il mese scorso. È stato davvero bello. E tu? Non vado a un matrimonio da un po' di tempo, ma ci andrò il prossimo fine settimana. Hai qualche consiglio per vestirti per un matrimonio? Penso che dipenda dal codice di abbigliamento, ma di solito scelgo qualcosa di semiformale come un abito da cocktail o un abito. E tu? Stavo pensando di indossare giacca e cravatta. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei fare un po' di shopping. Sembra un weekend divertente. Sei mai stato a un matrimonio in cui il cibo era davvero buono? Sì, sono andato a un matrimonio una volta dove avevano un buffet davvero carino con molte opzioni diverse. Era delizioso. È fantastico. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 140. Hai dei fratelli? Ehi Anna, hai dei fratelli? Sì, ho un fratello maggiore. E tu? Ho una sorella minore. Come si chiama tuo fratello? Il suo nome è David. E tua sorella? Il suo nome è Sarah. Hai un buon rapporto con tuo fratello? Sì, andiamo abbastanza d'accordo. Abbiamo i nostri disaccordi, ma riusciamo sempre a risolvere le cose. Che ne dici di te e tua sorella? Anche noi siamo abbastanza vicini. Litigavamo molto quando eravamo più giovani, ma siamo diventati buoni amici man mano che crescevamo. È bello sentirlo. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare in spiaggia. Sembra un weekend divertente. Hai una spiaggia preferita? Sì, c'è una spiaggia a poche ore di distanza che ha alcuni ottimi spot per il surf. Hai già fatto surf? No, non l'ho fatto. Ma ho sempre voluto provarlo. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 141. Stai con i tuoi genitori? Ehi, Anna. Stai con i tuoi genitori o vivi da sola? Vivo da sola. E tu? Vivo ancora con i miei genitori. Trovi difficile vivere da solo? A volte può essere difficile, ma apprezzo anche l'indipendenza e la libertà che ne derivano. Hai intenzione di trasferirti? Sì, ho intenzione di trasferirmi presto e ottenere il mio posto. Hai qualche consiglio per vivere da solo? Penso che sia importante stabilire una routine e trovare il tempo per prendersi cura di sé. È anche bello avere un sistema di supporto di amici e familiari. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace leggere, guardare film e giocare ai videogiochi. E tu? Mi piace fare escursioni, praticare yoga e provare nuove ricette in cucina. Hai dei piani per il fine settimana? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 142. Quanto spesso mangi fuori? Ehi Anna, quanto spesso mangi fuori? Di solito mangio fuori un paio di volte a settimana. E tu? Non mangio fuori così spesso, forse una o due volte alla settimana. Hai qualche ristorante preferito? Sì, c'è un ristorante thailandese vicino a casa mia che mi piace molto. Hanno il miglior pad Thai. E tu? Mi piace questa pizzeria in centro che ha davvero una buona pizza sottile. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei fare un po' di shopping. Sembra un weekend divertente. Ti piace cucinare a casa? Sì, a volte mi piace cucinare. Di solito preparo pasti semplici come pasta o frittura. E tu? Adoro cucinare. Mi piace sperimentare diverse ricette e ingredienti. Hai qualche cucina preferita? Mi piace molto il cibo italiano e messicano. E tu? Mi piace il cibo thailandese e indiano. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 143. Cosa fanno i tuoi genitori per vivere? Ehi Anna, cosa fanno i tuoi genitori per vivere? Mia madre è un insegnante e mio padre è un medico. E i tuoi genitori? Mia madre è un'infermiera e mio padre è un avvocato. Hai fratelli? Sì, ho un fratello maggiore. E tu? Ho una sorella minore. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare in palestra per un allenamento. Sembra un buon fine settimana. Hai un tipo di allenamento preferito? Mi piace fare un mix di cardio e allenamento della forza. E tu? Preferisco fare yoga e pilates. Li hai mai provati? Sì, ho già fatto yoga prima. È davvero buono per la flessibilità e il relax. È vero. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 144. Hai figli? Ehi Anna, hai dei figli? No, non ho figli. E tu? Sì, ho due figli. Un ragazzo e una ragazza. Cosa piace ai tuoi nipoti? Mio nipote ama giocare a calcio e ai videogiochi, e a mia nipote piace ballare e disegnare. E i tuoi figli? A mio figlio piace giocare a basket e ai videogiochi, e a mia figlia piace leggere e giocare con le bambole. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Ai tuoi bambini piace andare in bicicletta? Sì, si divertono. Di solito andiamo in bicicletta con la famiglia nei fine settimana. Che ne dici di tuo nipote e tua nipote? A mio nipote piace andare in bicicletta, ma mia nipote sta ancora imparando. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 145. La tua famiglia di solito cena insieme? Ehi Anna, la tua famiglia di solito cena insieme? Sì, cerchiamo di cenare insieme come una famiglia ogni volta che è possibile. E la tua famiglia? Cerchiamo anche di cenare insieme come famiglia, ma a volte può essere difficile con gli orari di tutti. Hai qualche tradizione preferita per la cena in famiglia? Ci piace cucinare a turno e provare nuove ricette. È un ottimo modo per legare e condividere il nostro amore per il cibo. E la tua famiglia? Ci piace avere serate di giochi in famiglia in cui giochiamo a giochi da tavolo o giochi di carte insieme. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei fare un po' di shopping. Sembra un weekend divertente. Hai qualche negozio preferito in cui fare acquisti? Mi piace andare nei negozi di articoli sportivi e di elettronica. E tu? Mi piace andare in libreria e nei negozi di abbigliamento. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 146. Quali ristoranti visiti di solito? Ehi Anna, quali ristoranti visiti di solito? Mi piace provare nuovi ristoranti, ma ho anche alcuni preferiti. C'è un posto di sushi vicino a casa mia che vado spesso. E tu? Mi piacciono i ristoranti italiani, e ce n'è uno in centro dove vado spesso. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare in palestra per un allenamento. Sembra un buon fine settimana. Hai una palestra preferita? Sì, c'è una palestra vicino a casa mia che ha un sacco di attrezzature e lezioni. E tu? Preferisco fare yoga e pilates in uno studio. Avete animali domestici? Sì, ho un cane di nome Max. È un golden retriever. E tu? Non ho animali domestici, ma amo gli animali. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 147. Che tipo di cibo ti piace mangiare? Ehi, Anna. Che tipo di cibo ti piace mangiare? Mi piace una varietà di cucine, ma penso che la mia preferita sia il cibo thailandese. E tu? Mi piace di più il cibo italiano, specialmente la pizza e la pasta. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare in palestra per un allenamento. Sembra un buon fine settimana. Hai un tipo di allenamento preferito? Mi piace fare un mix di cardio e allenamento della forza. E tu? Preferisco fare yoga e pilates. Li hai mai provati? Sì, ho già fatto yoga prima. È davvero buono per la flessibilità e il relax. È vero. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 148. Quanto spendi di solito quando mangi fuori? Ehi Anna, quanto spendi di solito quando mangi fuori? Dipende dal ristorante e dal tipo di cibo, ma di solito spendo dai 20 ai 30 dollari a pasto. E tu? Cerco di mantenerlo intorno alla stessa fascia di prezzo, ma a volte mi concedo il lusso di un ristorante di lusso e spendo di più. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 149. Pensi che il server qui sia amichevole? Ehi Anna, pensi che il server qui sia amichevole? Sì. È stato molto attento e disponibile. E tu? Sono d'accordo. Finora è stato grande. Hai qualche consiglio su cosa ordinare? La pasta di pesce è davvero buona qui. L'ho avuto prima ed è delizioso. E tu? Penso che proverò la bistecca. Ho sentito che è cucinato perfettamente qui. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare in palestra per un allenamento. Sembra un buon fine settimana. Hai una palestra preferita? Sì, c'è una palestra vicino a casa mia che ha un sacco di attrezzature e lezioni. E tu? Preferisco fare yoga e pilates in uno studio. Avete animali domestici? Sì, ho un cane di nome Max. È un golden retriever. E tu? Non ho animali domestici, ma amo gli animali. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 150. Conti mai le calorie quando mangi fuori? Ehi Anna, conti mai le calorie quando mangi fuori? Non proprio. Cerco di fare scelte salutari, ma non mi preoccupo troppo di contare le calorie. E tu? Sono allo stesso modo. Cerco di mangiare con moderazione e fare scelte sane, ma non conto le calorie. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 151. I fast food sono popolari nel tuo paese? Ehi Anna, i fast food sono popolari nel tuo paese? Sì, sono molto popolari. Ci sono molte catene di fast food qui che la gente apprezza. Che ne dici nel tuo paese? Anche i ristoranti fast food sono molto popolari nel mio paese. Ci sono molte catene diverse a cui le persone amano andare. Hai un fast food preferito? Mi piace andare da McDonald's quando voglio qualcosa di facile e veloce. E tu? Mi piace andare in metropolitana quando voglio un panino o al KFC per il pollo fritto. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 152. Bevi spesso alcolici? Ehi Anna, bevi spesso alcolici? Non proprio. Bevo solo in occasioni speciali o se sono fuori con gli amici. E tu? Mi piace bere qualcosa di tanto in tanto, ma non bevo troppo. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 153. Quanto spesso leggi libri? Ehi Anna, quanto spesso leggi libri? Cerco di leggere almeno qualche pagina ogni giorno, ma a volte mi do da fare e non riesco a trovare il tempo. E tu? Amo leggere, quindi cerco di leggere un libro ogni settimana. Hai qualche autore o genere preferito? Mi piacciono i libri gialli e thriller, e alcuni dei miei autori preferiti sono Dan Brown e Agatha Christie. E tu? Mi piacciono i libri di fantascienza e fantasy, e alcuni dei miei autori preferiti sono J.R.R. Tolkien e George R.R. Martin. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 154. Qual è il tuo tipo di libro preferito da leggere? Ehi, Anna. Qual è il tuo tipo di libro preferito da leggere? Mi piace molto leggere romanzi gialli e polizieschi. E tu? Mi piacciono di più i libri di fantascienza e fantasy. Hai qualche autore o titolo preferito? Sì, adoro la serie di Harry Potter di J.K. Rowlingel, e il serie Millennium di Stieg Larsson. E tu? Sono un grande fan delle opere di J.R.R. Tolkien, in particolare del Signore degli Anelli. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 155. Cosa pensi che possiamo imparare dai libri? Ehi Anna, cosa pensi che possiamo imparare dai libri? I libri possono insegnarci tanto, dalla storia e dalla scienza alla lingua e alla cultura. E tu? Sono d'accordo. I libri possono espandere la nostra conoscenza e immaginazione. Possono anche insegnarci l'empatia e la comprensione di diverse prospettive. Hai un libro preferito che ti ha insegnato qualcosa di importante? Sì, ho letto Tukila Mokin Verde di Harper Lee al liceo, e mi ha insegnato molto sul razzismo e sul pregiudizio. E tu? Ho letto L'alchimista di Paolo Coelho, e mi ha insegnato l'importanza di seguire i propri sogni e fidarsi del viaggio. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 156. Di solito porti libri con te quando viaggi? Ehi, Anna. Di solito porti libri con te quando viaggi? Sì, porto sempre con me un libro o due quando viaggio. È un ottimo modo per passare il tempo su lunghi voli o viaggi in treno. E tu? Anch'io, mi piace avere qualcosa da leggere durante i tempi di inattività o quando mi rilasso in hotel. Hai qualche libro preferito da leggere mentre viaggi? Mi piace leggere memorie di viaggio o libri ambientati nei luoghi che sto visitando. Mi aiuta ad avere un senso migliore della cultura e della storia locale. E tu? Mi piace leggere romanzi d'avventura o gialli. Mi aiuta a intrattenermi durante i lunghi viaggi. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 157. C'è una libreria nella tua zona? Ehi Anna, c'è una libreria nella tua zona? Sì, c'è una libreria a pochi isolati da casa mia. E tu? C'è anche una libreria nella mia zona, si trova nel centro della città. Vai spesso in libreria? Sì, mi piace visitare la libreria per controllare le nuove uscite e trovare alcune buone letture. E tu? Cerco di andare in libreria almeno una volta al mese per sfogliare e comprare qualche libro. Hai qualche genere o autore preferito? Mi piacciono i romanzi gialli e polizieschi, e alcuni dei miei autori preferiti sono Dan Brown e Agatha Christie. E tu? Mi piacciono i libri di fantascienza e fantasy, e alcuni dei miei autori preferiti sono J.R.R. Tolkien e George R.R. Martin. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al cinema o magari provare un nuovo ristorante. E tu? Ho intenzione di andare al barbecue di un amico sabato. E la domenica, potrei andare a fare un giro in bicicletta. Sembra un weekend divertente. Hai una pista ciclabile preferita? Sì, c'è un sentiero vicino a casa mia che costeggia il fiume. È davvero carino e tranquillo. Sembra incredibile. Grazie per aver chiacchierato con me, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 158. Hai viaggiato in molti luoghi? Ciao Anna, come stai? Sto bene. Grazie per avermelo chiesto. E tu? Sto andando alla grande, grazie. Quindi, hai viaggiato in molti posti? Sì, sono stata in parecchi posti. E tu? Sono stato anche in alcuni. Dove sei stato? Sono stata in Italia, Francia, Spagna, Grecia e Regno Unito. E tu? Sono stato in Messico, in Canada e in alcuni stati degli Stati Uniti. È fantastico. Dove sei andato in Messico? Sono andato a Cancun e Tulum. Erano entrambi fantastici. Ho sempre voluto andare a Cancun. Com'è andata? È stato bellissimo. Le spiagge erano incredibili e l'acqua era cristallina. Sembra incredibile. Sono stato in alcune bellissime spiagge in Grecia. La Grecia sembra un ottimo posto da visitare. In quali altri posti sei stato? Sono stata anche in Thailandia, Giappone e Australia. Wow, sei stato in posti davvero fantastici. Non sono ancora stato in nessuno di questi. Dovresti assolutamente provare a visitarli qualche volta. Sono tutti fantastici a modo loro. Sì, lo voglio assolutamente. Grazie per i consigli. Lezione 159. Come ti prepari di solito per un viaggio? Ciao Anna. Come ti prepari di solito per un viaggio? Ciao John. Mi piace ricercare il posto in cui sto andando, fare una lista di imballaggio e prenotare i miei alloggi e voli in anticipo. E tu? Sono abbastanza simile. Mi piace ricercare i costumi e la cultura locale e assicurarmi di avere tutti i documenti necessari come il passaporto e il visto. È una buona idea. Mi piace anche controllare le previsioni del tempo in anticipo in modo da sapere cosa mettere in valigia. Sì, il tempo può essere imprevedibile a volte. Mi piace anche assicurarmi di avere tutte le vaccinazioni o i farmaci necessari prima del viaggio. Questo è un buon punto. Anche la sicurezza è importante. Di solito viaggi da solo o con altri? Ho fatto entrambe le cose. A volte mi piace viaggiare da sola per avere più libertà, ma altre volte è bello avere compagnia. So cosa intendi. Di solito viaggio con i miei amici o la mia famiglia, ma ho anche fatto viaggi da solo. Hai in programma dei prossimi viaggi? In realtà sto programmando un viaggio in Europa il mese prossimo. Ho intenzione di visitare alcuni paesi diversi. Sembra eccitante. Dove stai andando? Inizierò in Spagna, poi viaggerò in Francia, Italia e Germania. Questo è un ottimo itinerario. Sono stato in alcuni di quei posti e sono tutti fantastici. Hai qualche luogo da non perdere nella tua lista? Sì, voglio assolutamente vedere la Torre Eiffel a Parigi e il Colosseo a Roma. Sono entrambi punti di riferimento iconici. Sono sicuro che ti divertirai. Non dimenticare di scattare molte foto. Lezione 160. Cosa fai di solito quando viaggi? Ciao Anna. Cosa fai di solito quando viaggi? Ciao John. Mi piace esplorare nuovi posti, provare nuovi cibi e immergermi nella cultura locale. E tu? Sono abbastanza simile. Mi piace vedere i luoghi, visitare musei e provare la cucina locale. È fantastico! Qual è il tuo cibo preferito che hai provato durante il viaggio? Mi è piaciuto molto il sushi in Giappone. Era così fresco e saporito. Adoro anche il sushi. Quando ero in Thailandia, ho provato un sacco di cibo di strada ed è stato fantastico. Avete mai provato lo street food? Sì, ho provato del cibo di strada in Messico ed è stato davvero buono. All'inizio ero un po' nervoso per provarlo, ma alla fine è stato delizioso. So cosa intendi. A volte il cibo di strada può essere un po' intimidatorio, ma di solito ne vale la pena. Cos'altro ti piace fare quando viaggi? Mi piace fare escursioni ed esplorare la natura. Quando ero in Canada, ho fatto una bellissima escursione attraverso le montagne. Sembra incredibile. Adoro anche le escursioni. Quando ero in Australia, ho fatto un'escursione attraverso la foresta pluviale ed è stato incredibile. Wow, sembra incredibile. Ho sempre desiderato visitare l'Australia. Cos'altro hai fatto lì? Ho fatto snorkeling nella Grande Barriera Corallina ed è stata una delle esperienze più incredibili della mia vita. È fantastico. Non ho mai fatto snorkeling prima, ma è sicuramente nella mia lista dei desideri. Dovresti assolutamente provarlo qualche volta. È un'esperienza incredibile. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. Incontriamoci presto nel nostro prossimo video.